Domanda, ma quanto ami Mass Effect? Risposta, sì, sì, assolutamente sì. Eccoci qua, siamo qui per parlare come intuiti di Mass Effect, del perché ho sempre amato questa serie. Se non mi conoscete, io sono Francesco Tognolo, sono un professore universitario, mi occupo di videogiochi. Di solito vado a fare video di commenti, analisi, magari anche sul mercato videoludico, io insegno anche marketing, tra le tante cose. Per oggi facciamo qualcosa di diverso, andiamo a fare un video con il cuore in mano, come direbbe il nostro caro e compianto Richard Benson. Il cuore, con il cuore in mano! Con il cuore in mano! Con il cuore in mano! Per cui, eccoci qua, si parla di uno dei videogiochi, delle serie che ho amato di più durante la mia carriera videoludica. Poi, diciamo, faccio sempre fatica a sceglierne uno in senso assoluto, quindi quando c'è la classica domanda ma qual è il tuo videogioco preferito? Le risposte variano perché ci sono altri candidati che stanno più o meno alla pari. Per esempio Dark Souls sicuramente vado a collocarlo più o meno allo stesso livello. The Legend of Zelda, a volte anche Diablo 2, vado a citare, quindi sono tutti giochi a cui sono molto molto affezionato per ragioni differenti, per cui magari quando arriva il momento della domanda, a seconda di quello che è il periodo, posso dare una risposta rispetto a un'altra. Per cui, tanto diciamo, come ho scoperto Mass Effect, che è anche interessante perché l'ho comprato totalmente a caso, cioè non avevo assolutamente idea di cosa fosse, però me lo ricordo bene, io ero andato al GameStop, ero, l'anno non me lo ricordo, ma ero al liceo, forse al quarto anno del liceo scientifico, mi sembra, e ero andato un giorno al GameStop e ho detto voglio comprare questo gioco qui, che poi ho comprato, che è Universe at War, che non so se lo conoscete, non è un gioco famosissimo, è uno strategico, di già l'idea di prendere uno strategico su Xbox 360, non so bene cosa avesse in testa, però l'ho trovato lì, uno strategico di fantascienza, in cui c'erano queste tre specie alieni, ognuna con caratteristiche molto particolari, uniche, che andavi a controllare, e ho detto, beh, compriamolo, acquistiamolo, poi già che ero lì ho visto questo, e ho detto, già che siamo in tema fantascienza, spazio, alieni, perché no, diamogli una possibilità, non costava tanto, non ricordo quanto, sinceramente, e quindi ho comprato anche questo. Tra l'altro senza iniziare neanche a giocarci subito, l'avevo forse provato, mi ricordo, sì, l'avevo provato, era arrivato all'inizio, la prima volta che si va sulla cittadella, allora è curioso, però non era scattata la scintilla, non c'era ancora stata quella corrispondenza di amorosi sensi che sarebbe poi arrivata, e quindi poi mi sono messo a giocare a Universe at War, e forse ad altri videogiochi anche che avevo, poi mi sono rimesso una volta, un giorno, ho detto, ma vediamo un po' come prosegue questo videogioco, e lì ho iniziato a essere davvero catturato, ricordo che appunto durante la prima partita, poi l'avevo anche rigiocato subito, ero estremamente immerso, inserito all'interno di questo mondo, su cui avevo una fascinazione enorme, perché mi dava un senso proprio di vitalità, cioè i vari personaggi con cui andavi a parlare, dicevo, caspita, sembra proprio in alcuni momenti di chiacchierare con delle persone, compagni di squadra, dico, Liara, Tali, Garrus, Rex, Ashley, Kaidan, insomma c'era questo clima in cui man mano andavi a conoscere, ti raccontavano le loro storie, tutto questo background, il mondo in sé aveva, davvero sembrava infinito, mi piaceva anche perdere tempo, tutta una serie di attività, poi anche molto ripetitive, e noiose andare in giro col mako sui pianeti, ma anche lì c'era quell'elemento di fascinazione esplorativa, perché dopo un po' che hai capivi che alla fine questi pianeti erano vuoti, ma andava bene lo stesso, era il bello di girare per i sistemi della galassia, leggere le descrizioni dei pianeti, poi atterravi su un pianeta, passavo magari anche mezz'ora a girare a vuoto col mako, mi mettevo alla fine su una collinetta, guardavo il tramonto, il sole, cose così, ed è, mi affascinava tutto questo, le origini di Shepard, la sua personalizzazione, il fatto che c'erano addirittura diverse missioni, diversi dialoghi a seconda delle sue origini, quindi tutta questa serie di cambiamenti che ti davano uno spettro di possibilità davanti, che sembrava infinito, effettivamente infinito non è, ma è molto molto esteso, personaggio appunto verso cui mi ero molto affezionato, questo finale del primo Mass Effect che lasciava aperta un'enorme curiosità su quello che sarebbe avvenuto poi in futuro, scoprivi di questi razziatori, vedi quanti sacrifici erano stati necessari per fermare un singolo razziatore, tra l'altro pure distratto perché doveva controllare intanto Saren Arterius e combattere contro Shepard e la sua squadra, mentre tutta la flotta dell'Alleanza gli sparava contro, quindi una potenza veramente divina, qualcosa che travalicava i confini stessi della comprensibilità umana, questa era l'idea, e quindi davvero una curiosità, un interesse enorme, è stato anche uno dei pochi casi, devo dire, in cui proprio è partito un po' lo spirito del collezionismo, qui sotto mano ho tutta una serie di action figure, statuine in resina, varie cose su Mass Effect, anche per dire sul primo Mass Effect, solo per Xbox, oltre alla copia che avete visto prima, anche questo qui, nella versione dei best seller, e poi avevo preso la limited edition, più tutte le altre versioni PC, editori che sono uscite, quindi ho un'infinità di copie di Mass Effect, inutilmente tra l'altro, perché alla fine ne basta una, poi l'ho giocato anche su altre console, su PC, quindi c'è un po' di tutto, e poi mi ricordo anche Mass Effect 2, quando è arrivato, che pure aveva i suoi elementi su cui si capiva che erano state fatte delle scelte un po' veloci, Electronic Arts faceva sempre sentire di più la sua mano, per cui, per esempio, dico giusto una cosa che mi capita anche di citare abbastanza spesso, il fatto che inizialmente avremmo dovuto poter reclutare i compagni di squadra in un ordine libero, quindi già all'inizio del gioco uno poteva andare subito per dire a reclutare Legion e portarselo poi su, nelle missioni dove recluti Mordin, Gargus e tutti gli altri, per cui poi questa cosa è venuta meno, capiamo che era stato pensato così perché c'erano i dialoghi, quindi poi le persone sono riuscite anche a ripristinarli, a ritrovarli, e quindi c'erano le linee di dialogo appunto già anche doppiate di Legion che faceva riferimento a quegli eventi, quindi voleva dire che lui e tutti gli altri personaggi che reclutiamo nella seconda parte del gioco potevano essere già reclutati in precedenza, ma questa cosa non è stata possibile perché in quel caso il videogioco su Xbox 360 avevano dovuto dividerlo su due dischi e quindi hanno dovuto mettere in modo piuttosto chiaro un prima e un dopo. Peccato, poi diverse altre cose si vedeva che erano state fatte un po' di fretta o che a volte puntavano in modo fin troppo esteso sul discorso della cross-medialità, per cui trovavi dei riferimenti a volte citati da varie persone come Talia all'inizio del gioco quando parla degli screzzi di Cerberus e il suo popolo, quando mai è successo questa cosa, se ne parla in uno dei romanzi. Ovviamente avevo letto tutti anche i fumetti, i romanzi, qualunque cosa più o meno esistente a tema mass-effectiano avevo cercato di recuperare, gli artbook e quant'altro. Quindi non è appunto il gioco perfetto, anche perché non esiste il gioco perfetto, su ogni discorso, su ogni gioco si possono portare avanti degli elementi di criticità, sia nel Mass Effect 1, 2, poi soprattutto nel 3, ma appunto questo non faceva venire meno questo mio interesse, questo amore per la serie, poi anche quando è arrivato Mass Effect 3 lo ricordo molto bene, ho giocato con grande interesse, ricordo anche una delusione piuttosto forte sul finale, come per molte persone. Su questo apriamo anche una parentesi, perché poi ricordo molto bene anche tutto il dibattito e le critiche a chi si lamentava. Infatti c'erano lamentele diverse, perché alcuni semplicemente dicevano voglio finale positivo, happy ending, per Shepard e la sua squadra, quindi quella cosa lì, che non c'è perché, ok, si è scelto anche giustamente di fargli fare un sacrificio eroico, quindi la fine di Shepard come essere umano, l'inizio di Shepard come leggenda, per cui con la sua morte, che poi si cura, a meno che non siamo davanti appunto al finale di istruzione, dove lo vediamo, perché ci fa questa sorta di respiro e rimane questo interrogativo, negli altri casi appunto andava a disgregarsi in questa sorta di coscienza collettiva dei razziatori in un caso, oppure per dare il via alla sintesi. Per cui da un lato c'erano queste lamentele e può anche essere sensato sottolineare il fatto che fossero state un po' aggressive nei confronti di Bioware. Bioware che tra l'altro aveva anche colpa fino a un certo punto, perché poi come detto aveva il fiato sul collo e si è visto tantissimo in varie parti del gioco. Però c'era anche molte persone che giustamente sottolineavano altri aspetti, cioè che non fosse minimamente chiaro quello che stava accadendo. Poi anche il fatto che le premesse e promesse che erano state fatte erano state disattese, perché dopo anni, tutto il pregresso di dire le tue scelte contano, effettivamente contavano, perché hai tutta una serie di situazioni dove anche quella quest secondaria del primo Mass Effect poi torna nel 3, rivedi quel personaggio, viene perlomeno citato, vedi che ha avuto un seguito, un'evoluzione, quindi hai questa galassia davanti a te che è davvero pulsante di vita, ricca, quello che hai deciso ha un suo peso, Shepard ha un'agency fortissima, enorme, la persona più importante della galassia, e appunto le scelte che facciamo insieme a lui o a lei hanno un effettivo impatto. Poi questa cosa veniva fortemente ridimensionata, per non dire annullata, davanti a un finale dove avevi queste tre scelte portate avanti da un Deus Ex Machina di cui non si era mai detto nulla in precedenza, che improvvisamente compare e dal nulla ti dice puoi distruggere i razziatori, puoi fare sintesi o controllo. Tra l'altro, ho detto che non sarebbe stato un video analitico, questo ce lo teniamo per un'altra volta, questa tripartizione delle scelte è anche estremamente simile a un romanzo di Asimov, quindi interessante andare a vedere poi il parallelismo tra delle scelte proprio che vanno anche lì a impattare il destino della galassia in un'ottica simile al senso di istruzione, controllo e sintesi, proprio si può fare un parallelismo in questo senso. Per cui ecco anche perché si era nata e si era diffusa tantissimo la teoria dell'indottrinamento, su cui tra l'altro ho un libricino, mi ricordo, me l'aveva regalato un mio amico, un libro autopubblicato di quelli su Amazon, avrà avuto 70-80 pagine, però mi ricordo, era divertente, non ricordo dove sia, adesso cercherò poi di ripescarlo perché era simpatico, che spiegava la teoria dell'indottrinamento, il fatto cioè che diciamo questo finale è così strano perché in realtà è una lotta interiore nella mente di Shepard, i razziatori lo stanno controllando e gli mettono davanti delle scelte, quindi lui non ha veramente davanti a sé Anderson e l'uomo misterioso, si trova davanti a come se fossero l'angelo e il diavolo nella sua testa che cercano di portarlo in direzioni differenti, state fatte analisi molto interessanti, molto curiose sui colori utilizzati, dicevano vanno a farti cambiare quella che è la percezione che tu hai avuto finora dell'uso del rosso e dell'azzurro blu all'interno di questa serie, qui c'era davvero tanto materiale, ricordo video di ore che spiegavano anche a partire da quale momento Shepard era stato indottrinato, perché lì c'erano anche diverse teorie su quale fosse il momento di origine che molti dicevano inizia con Mass Effect 3 all'inizio del gioco, perché poi ha sempre più queste visioni, questi sogni che erano indicati in quest'ottica, altri invece facevano partire addirittura da prima, tutto ciò lo retrodattavano, poi Bioware ha detto appunto bella teoria ma non abbiamo mai pensato a qualcosa del genere, era uscita la versione Extended, ricordate che c'era questo DLC gratuito che aggiungeva qualche sequenza, qualche dialogo per spiegare tutti quei che erano degli effettivi buchi che le persone non riuscivano a colmare se non appunto in quest'ottica della visione, perché diciamo allora se è un discorso onirico al suo senso si può far quadrare i pezzi, ma se no appunto per esempio perché se quel tal compagno di squadra è lì con me in missione poi lo vedo sulla Normandy con Joker, come cosa è successo? Quindi hanno messo la scena dove vedi appunto che i compagni vengono feriti, arriva la Normandy, vengono caricati, c'è anche l'ultimo saluto toccante se è il compagno o la compagna con cui ci siamo innamorati, lì c'è anche ricordo che la doppiatrice di Shepard aveva detto in un'intervista che la battuta, la linea di dialogo più difficile per lei da pronunciare è quando in quel momento dice addio a Garthus, che infatti se andate a sentirlo in inglese andate anche su YouTube lo trovate, il pezzo si sente proprio che ha la voce strozzata. Ecco, comprensibilmente, perché immaginate in quel caso poi tanto più una doppiatrice che dà voce a un personaggio, ma anche noi come giocatori, quante ore abbiamo passato mettendo insieme tutti e tre i videogiochi in compagnia di questi personaggi, soprattutto un personaggio come Garthus che non a caso è uno dei più amati insieme a tali perché sono i compagni di squadra che ti accompagnano per tutti e tre i videogiochi, meno ovviamente che non vadano a morire in alcune delle missioni, però se li reclutiamo all'inizio e li portiamo fino in fondo ci accompagnano per tutto il tempo. Quindi è chiaro l'amore di tantissime persone verso questi personaggi, il fatto che appunto già nel primo Mass Effect fosse stato chiesto a gran voce di poter avere delle relazioni sentimentali anche con loro. Tanto che qui cito delle cose anche di passaggio che riprenderò in futuro. Questo era nato anche da parte dei fan perché Garthus e tali sono quelli che cambiano di più durante le missioni del primo Mass Effect in senso di comportamento che hanno. Questo dipendeva dal sistema Paragon e Renegade che hanno anche i compagni di squadra e quindi molte persone dicono che questo approccio più variabile, variegato di loro due rispetto agli altri personaggi ha aiutato, ha contribuito molto nel farli piacere perché apparivano più trasformativi, performativi durante le varie missioni. sembravano cambiare maggiormente il loro atteggiamento rispetto agli altri. Per cui tutti i discorsi estremamente interessanti. Prossimamente farò un po' di video su Mass Effect oltre a varie altre cose anche perché sto scrivendo un libro su Mass Effect che sarà su tutte le interpretazioni, le analisi di questo gioco. Credo uscirà per marzo più o meno quindi ci sarà anche tempo per le analisi, per le osservazioni. Tra l'altro a proposito di questo ci tengo a dire un altro aneddoto, un altro discorso personale, cioè che io mi sono avvicinato al mondo accademico della ricerca sui videogiochi anche grazie a Mass Effect perché quando sono arrivato alla magistrale, io ho studiato lettere, sia triennale che magistrale, quando ho iniziato la magistrale appunto all'inizio, proprio i primissimi mesi, sono andato subito dal docente con cui volevo fare la tesi che era di letterature comparate e ho detto io voglio fare una tesi su Mass Effect, su come Mass Effect recupera la fantascienza, recupera i grandi temi, i grandi elementi ricorrenti della fantascienza cinematografiche letterarie e voglio quindi andare a comparare queste opere, quindi Asimov, Philip Dick, Matrix, Battlestar Galactica, tante e tante altre, Odissea nello spazio, tra il romanzo di Clark e poi il film di Kubrick e molto altro ancora, mi hanno detto di sì, avevo già lavorato con loro alla tesi triennale, quindi comunque avevano visto che lavoravo bene, si fidavano, perché effettivamente era una proposta un po' diversa dalle altre, quindi mi sono passato due anni mentre facevo i vari esami e tutto, a rigiocarmi a rotta di collo tutti i Mass Effect e a scrivere, poi quello è diventato il mio primo libro, non è stata in realtà la prima cosa che ho pubblicato perché nel frattempo avevo fatto sempre articoli accademici, pubblicazioni di quel versante, ne avevo fatto uno su Ico e la filosofia dell'abitare e uno su il teatro e la performance in Paper Mario il portale millenario che erano usciti su delle riviste, eccetera, eccetera, quindi quello è il mio primo libro che insomma ricordo con grande affetto nasceva dalla mia tesi, era una rielaborazione della tesi di laurea che avevo fatto che in effetti era stato un lavoro molto molto lungo, molto complesso rispetto a altre tesi, ma specialmente perché ci avevo messo di più, cioè ero partito, fin da subito avevo avuto due anni di tempo per leggere tutta una serie di romanzi, di testi, approfondire, studiare, capire il più possibile la fantascienza a 360 gradi su cui avevo letto tanto ma avevo ovviamente anche dei buchi, delle carenze che ero andato a recuperare e man mano che leggevo scoprivo tutta una serie di legami con Mass Effect, è stato bellissimo perché ho messo insieme varie passioni, l'amore per questo videogioco, l'amore anche per la ricerca, per la lettura, perché lì ho scoperto man mano che soprattutto quando avevo a che fare con degli argomenti di mio interesse piaceva tantissimo mettermi lì nel tempo libero di sera a leggere, studiare, approfondire, non era lavoro, era proprio un piacere, già un po' avevo iniziato al liceo quando c'erano appunto gli argomenti di mio interesse, davo molto in quella direzione, mi piaceva approfondire, leggere di più, studiare, però qui è stato veramente lo scatto e anche quello che mi ha fatto poi dire io vorrei fare questo nella vita, cosa che più o meno adesso faccio perché insegno in università ho vari corsi, molti dei quali sui videogiochi, altri sono trasversali, per esempio quello di marketing, marketing dei media e dell'industria creativa e quindi più ampio, ci sono dentro anche i videogiochi ovviamente, scrivo, scrivo tanti testi, libri, articoli, capitoli di libri, qualunque altra cosa, prefazioni, eccetera, eccetera, sui videogiochi, guardate, scrivo qualche altro, ho fatto un libro sui broni per esempio, che mi piace sempre ricordarlo, però ecco, questo è il mio focus, è il mio interesse, è la mia passione e tornare adesso su Mass Effect anche da questo punto di vista è il cuore in mano appunto, come dicevo prima per citare Richard Benson, cioè qualcosa che riapre tutti i cassetti della memoria, davvero come come diceva Proust, la famosa immagine proustiana, che quando hai quell'elemento, quel qualcosa che quando attiva i tuoi sensi, quando va a toccarti, ecco che spalanca le porte del passato e qui allora sentire per esempio la musica del menu iniziale o della mappa galattica mi riporta alla mente tanti ricordi di tanti pomeriggi passati a giocare a Mass Effect quando all'inizio scoprivo questo mondo, andavo a vedere poi soprattutto dopo che ho fatto la prima partita mi ero comprato anche la guida strategica, mi ricordo che oltre la sera la sfogliavo, davo a studiarmela proprio diceva quindi quella missione lì l'altra volta avevo fatto questo e poi avevo perso questa missione secondaria, a volte anche al mattino prima di andare a scuola leggevo due pagine poi stavo anche durante il giorno a pensare a Mass Effect a volte, che forse non è un ottimo esempio da dire però effettivamente non lo nascondo, nelle ore soprattutto delle materie che mi interessavano meno a volte la mente volava altrove e volava anche al pensiero di questa galassia da salvare poi quando c'erano italiano, storia, filosofia, latino che erano materie che mi piacevano di più generalmente ero molto attento perché mi piaceva avevo proprio un piacere nel seguirle a volte davo un po' per i fatti miei quindi non imitatemi mi raccomando seguite tutto il più possibile però questo è quindi Mass Effect Mass Effect non vedo l'ora di adesso ripescare un po' di altri ricordi man mano durante la scrittura vedo che emergono sto riguardando anche tanti spezzoni poi adesso voglio anche rigiocarlo perché effettivamente ho fatto tante tante partite negli anni però è un po' di tempo ultimamente che non ci sto rigiocando quindi magari colgo anche l'occasione in quel senso per fare un'ulteriore partita sto appunto intanto rivedendomi in giro un po' di contenuti di cose anche che non avevo approfondito in passato per esempio le speed run su Mass Effect che è una cosa che non avevo mai guardato più di tanto sto studiando anche quello quindi c'è un po' questo è anche bello l'occhio dello studioso e l'occhio dell'appassionato che vanno a guardare lo stesso oggetto in due modi diversi scoprendo delle sfaccettature differenti quindi questo mi piace molto come cosa quindi appunto adesso prossimamente farò anche un po' di video su questa serie su questo videogioco in modo anche più analitico cercando di andare a sviscerare il perché di alcune scelte come mai determinati elementi sono interessanti quindi anche un po' un approccio archeologico cioè su come sarebbero dovuti essere certi contenuti oppure invece da tutt'altro lato come si muove il fandom come si muovono i modder discorso interessantissimo anche quello quindi se anche voi avete questo videogioco nel cuore direi anche iscrivetevi al canale così da tenere un po' d'occhio questi contenuti che andrò a fare man mano fino all'uscita del libro e anche probabilmente oltre come detto punto verso marzo salvo grossi ritardi grosse sorprese della vita direi che la tabella di marcia c'è dovrebbe uscire in quel momento e quindi ci sarà modo anche lì di utilizzarlo per riaprire discorsi riaprire cassetti della memoria e tanto altro ancora ora